Finalmente siamo tutti in vacanza, il team di ONG 2.0 è a spasso per il mondo, presto scoprirete dove sono andati a finire gli altri Io sognavo di andare in un posto pieno di sole e di mare, ma in realtà sono finita qui Dove sono? Indovinatelo voi, ci sono un sacco di biciclette, tantissimi canali e dei bei mulini E voi dove siete finiti? Scriveteci nei commenti e mandateci le vostre foto nei commenti di questo post Comunque siate, vi auguro uno splendido 2017, auguri e a presto Ciao Viviana, io invece il sole come vedete l'ho trovato, quella che vedete è una tipica palma di Cuba Alla destra i classici beach volley che sembra di essere in Brasile, pieni di gente Spiagge, viene, perché sono l'Indonesia qua e non c'è vento come potete sentire Ma già fa un gran freddo, c'è la buona Marche, quando un auguro di buon anno e si è lento Ciao Parigi, Londra, Amsterdam, no, San Mauro Torinese, ma va bene così, buon 2017 Il team di ONG 2.0 è in giro per il mondo, città diverse, paesi diversi in tutta Italia Io invece queste vacanze sono qua, nella mia città, a Verona Quindi un saluto dall'Arena, un saluto da Piazza Bra E un buon 2017 E un saluto da Piazza Bra Ho mio nome è Fran e lo potete vedere da i miei colleghi, parlo in inglese E' parte del lavoro che facciamo alla ONG 2.0, alla livellare in Izitu Io sto qui, in Pristina, la villcia di più negli altri paesi Euro e vorrei wish everyone a happy new year and hope that 2017 is going to bring more peace and solidarity anywhere across the world. Cheers! Ciao, sono Erika di Onegidio.0. È la decima volta che provo a fare questo video, quindi spero che sia quella buona e l'ultima. E volevo augurarvi un buon 2017 e ve lo auguro con questo tramonto. Ciao! E concludo io che in teoria dovevo essere sulle Ande Colombiane e invece i casi della vita mi hanno portato in Liguria. Quindi vi faccio tantissimi tantissimi auguri di buon anno dalla Liguria!